La testa sopra il bastone Di chi è la testa che si trova sopra il bastone nella stanza degli avori dentro il museo del Bargello? E cos'è? La prima volta che mi sono interrogata sulla figura del giullare era l'università e stavo scegliendo l'argomento per la mia tesi. Ero molto indecisa, le cose non erano andate come credevo e gli argomenti tra cui scegliere mi sembravano uguali e di poca ispirazione. All'improvviso però, sfogliando un libro, mi sono imbattuta nell'immagine di un giullare impegnato in un'acrobazia e lì vicino sulla stessa cornice un drago. Subito mi sono incuriosita qual era il posto di queste creature nella sala dell'arte, cosa volevano raccontare e a cosa servivano. Dopo questo primo incontro mi sono sempre interessata e incuriosita davanti agli oggetti che rappresentassero in qualche modo i giullari. L'oggetto custodito al museo del Bargello apparteneva ad un giullare vissuto nel XV secolo. Questo bastone, chiamato marotte, veniva utilizzato dai giullari per i loro scherzi e in alcuni casi come arma di difesa. Durante gli spettacoli compariva come complice, aveva il compito di dire le verità più scomode. Finemente lavorato e scolpito in legno di bosso, questa versione opera di un ebanista francese che verosimilmente ha scolpito sul bastone il ritratto del suo proprietario. La figura del buffone di corte non ha mai smesso di attirarmi e incuriosirmi. Quando ho visto la marotta nella teca al museo del Bargello, ho subito pensato che volevo parlare ancora di lui, ancora una volta, della fascinante figura del giullare. Grazie a tutti.